ciao benvenuto a questa video analisi con aggiornamento eciclico con l'indicatore volt time per quanto riguarda il dax non ho acceso la webcam perché c'è un mega temporale non sono stato a mettere su tutta l'impalcatura del green screen perché qui da me quando c'è temporale salta la luce e se riesco a registrarla così va bene uguale per una volta se non vedete la mia faccia che non è che sia al massimo direi che anzi forse vi risparmio anche un'agonia allora che cosa ci dobbiamo aspettare dal dax? innanzitutto vediamo è andato a rompere la timeline del circa 40 giorni quindi selezionato il ciclo da 40 giorni in maniera molto facile con l'indicatore basta cliccare sui pulsanti viene creata la sinusoide con i cicli corrispondenti durata media del circa 40 giorni la vediamo è di 37 giorni con uno storico di 10 anni ok quindi ho tracciato la timeline del circa 40 giorni andando ad unire sostanzialmente questo minimo ma che cavolo andando a unire questo minimo e questo minimo una volta creata la timeline da 40 giorni la sua rottura ci dà una conferma di quello che è il picco del circa 80 giorni che in realtà da un punto di vista e proiezione quindi parliamo di matematica è previsto per se magari levo questo riusciamo anche a selezionarlo è previsto indicativamente intorno ai primi giorni di giugno la rottura delle della timeline ci mette in questo caso un campanello d'allarme io vado ad aggiungere anche i 40 giorni e il 20 giorni perché i 20 giorni ci sta dicendo qualcosa a mio avviso di molto bello e di importante che la fase ribassista sicuramente è iniziata o quantomeno da un punto di vista ciclico abbiamo questa e queste indicazioni io però visto che abbiamo un minimo previsto per il 27 di maggio mi aspetto che il mercato possa in realtà rimbalzare prima di quello che dovrebbe essere un ribasso un po' più forte e il ribasso che vedrà il prossimo minimo intorno al 25 di giugno poi al momento attuale lì finisce il ribasso del DAX e chiaramente quella che è la sinusoid da divenire non è ancora confermata man mano che verranno confermati i minimi ciclici man mano che verranno diciamo a formarsi e confermati dell'algoritmo allora ci sarà anche la proiezione che andrà ad aggiornarsi per quanto riguarda le indicazioni del futuro che però rimangono meno male quelle e di fondo guardiamo un po che cosa ci dice vedete che di fondo in realtà siamo ancora all'interno di una componente rialzista al momento che vede il suo culmine previsto per novembre di quest'anno comunque chiaramente prematuro non facciamo i fenomeni andare a cercare delle previsioni così lontane fa delle figure da pirla e basta probabilmente prima di capire quello che potrà accadere come potrà accadere cosa potremmo cercare o non cercare una breve presentazione io io non ci sono vado a prenderlo eccomi qua una breve presentazione sono paolo pisino sono un trader da 2007 mi puoi trovare sul sito tradingpertuti.com ti invito a visitarlo prendere visione di quello che metto a disposizione e iscriviti al canale telegram gratuito è appunto gratuito riceverai ogni giorno in realtà si lo caricate stasera due analisi ciclico multiday gratuite e poi in intraday livelli volumetrici su dax nasdaq down jones e forex oltre chiaramente all'analisi ciclica con gli orari per e sostanzialmente per poter lavorare anche in autonomia servizio segnali non parlo più quello del forex perché l'otto di giugno lo chiuderò rimarrà chiaramente attivo ormai da un sacco di tempo il servizio segnali intraday sul dax nasdaq il down jones s&p e gold non li trado praticamente più e quindi rimangono attivi al momento quei tre strumenti nulla viete che vado ad aggiungere nuovamente pagare il gold del s&p 500 l'indicatore volt time per poter lavorare con l'analisi ciclica insieme all'indicatore avrai accesso anche al canale telegram gratuito dove si lavora tutti insieme si scambiano le analisi si scambiano i segnali e quest'oggi ad esempio abbiamo anche parlato di vps abbiamo trovato insieme un vps che sia economico per tutti per poter utilizzare quindi l'indicatore e poter accedere potrete accedere da da qualsiasi sostanzialmente e piattaforma voi voi abbiate perché l'indicatore è monolicenza preso una licenza su un pc e di finisce per due pc servono più licenza corso di analisi ciclica volumetrica se vuoi approfondire invece il corso di quello che c'è dietro l'analisi ciclica avrai accesso a otto ore di formazione base quindi se sei un trader le prime armi lo potrai tranquillamente acquistare il corso perché avrai anche accesso a otto ore di formazione base 40 ore di formazione di analisi ciclica 9 ore di formazione di analisi volumetrica un anno intero di indicatore indicatore ricordo che è proprietario è un mio studio è un mio algoritmo e non c'è un indicatore del genere e al di fuori dal mio sito perché è mio io sono uno dei pochi trader anzi pochi traders che non utilizza le cose degli altri dicendo di essere molto bravo perché sono cose degli altri ma lui le conosce meglio io ho qualcosa che ho creato io e quindi più bravo di me con la mia nasi ciclica naturalmente non c'è nessuno quindi qual è il mio obiettivo l'obiettivo è di e portarvi da essere a meno a conoscerla quanto lo conosco io l'analisi ciclica da me utilizzata per far sì che possiate ottenere il massimo da un punto di vista dei risultati lo vedete qua nel multiday quanto è preciso nell'andare a calcolare in automatico i cicli a proiettare ciò che farà il mercato nel futuro ovviamente canale telegram è incluso anche per un anno e poi le due coaching individuali che sono un must da sfruttare io consiglio dopo aver visto almeno un po di video quando avrai idea avrei un po più chiaro che cos'è l'analisi cicli che cosa c'è di BDS allora le due coaching poi potrai già valutare di utilizzarle per portare sostanzialmente al massimo la loro efficacia dicevo cosa dobbiamo fare vado a prendere un 40 giorni un 20 giorni l'indicatore se la prima volta che lo guardi non ti obbliga a contare le candele e dover andare a spostare tutte le date in giro fa tutto quanto lui è veramente qualcosa di strepitoso perché a mano non potrai mai fare un'analisi di dieci anni potrai analizzare due tre strumenti non di più facendo un'analisi come una volta invece con il mio indicatore se vai a vederti il video del Russell di ieri vedrai che in meno di un minuto abbiamo fatto l'analisi completa sull'indice Russell che non avevo mai analizzato tra l'altro quindi permette veramente a chiunque in un niente di poter fare un'analisi ovvio serve conoscere le basi dell'analisi ciclica con il canale volta imparerai a utilizzare l'indicatore al meglio con gli altri utenti lì ci sono utenti che hanno acquistato il corso di analisi ciclica e altri no ovviamente a certe informazioni non avrai accesso normale che sia così però ti permetterà già al canale tegna di poter lavorare con l'indicatore andando ad aggiungere il ciclo da 20 giorni appunto abbiamo la data qua del andiamo a metterlo va la data del 26 di maggio quindi fra due giorni giusto oggi 24 esatto dove potremmo vedere un rimbalzo fino più o meno intorno alla data del 2 3 di giugno come vedi il picco che era previsto per il 27 è andato a spostarsi nella data del 2 di giugno perché l'indicatore in maniera automatica è andato a selezionare quello che da un punto di vista statistico è il minimo corretto per rimanere all'interno dei 40 giorni che con la varianza ci restituisce una durata media di 37 giorni tutto automatico non devi fare niente manualmente quindi io qua uno short ne lo prenderei in questo momento di lungo ok noi abbiamo chiuso questa mattina 80 punti di un trade che avevamo aperto tra l'altro qua ci sono i risultati non ho ancora aggiornato sul sito mese di maggio non è ancora sicuramente un ottimo mese 219 punti di profitto sul dax nasdaq siamo ancora negativi 110 e poi c'è il dao meno 510 il dao come dico sempre qui fa impressione però in realtà dal punto di vista economico e siamo appena appena sotto questo mese perché il dao col dao si entra con una una site che è un terzo rispetto al dax al nasdaq perché costa tre volte quindi come se fossero poco più di 120 130 punti 150 punti te esageriamo di perdita su sul down jones mese difficile mercato difficile mercato che non ritraccia mai anche oggi se l'off totale non hanno fatto mezzo punto di storno quindi anche entrare short era praticamente impossibile a meno che non si entrasse a caso mercato veramente molto difficile manca ancora qualche giorno speriamo di recuperare ancora qualcosina ciao isabel stasera non ti puoi far vedere perché la telecamera spenta è tutta bagnata fuori piove molto bene e dicevo quindi il mese ancora negativo sì ma dopo 700 punti di aprile direi che anche chiudere un mese un po negativo non succede nulla quindi abbiamo come livelli 15.639 evidente questa è un'area molto importante dai vai giù è un'area molto importante io qua mi aspetterei qualora ci arrivasse chiaramente il dax un rimbalzo e poi allora sì che potremmo andare a cercare delle occasioni ribassiste un po più decenti non ammettono 20 giorni e potremmo andare poi a selezionare una prossima trendline che sarà quella del ciclo da 20 giorni con il corso imparerai anche a tracciare delle trendline che hanno un senso non trendline tracciate totalmente a caso perché se non utilizzo l'analisi ciclica tu tradi tracci delle trendline totalmente a caso ossia le tracce per giustificare quella che è una tua idea di trading che poi io anche dire che le traccio correttamente poi a volte non le segua e faccia cazzate purtroppo se non essere umano ma tendenzialmente l'analisi c'è la trendline ciclica ha un valore reale statistico perché si basa su numeri diciamo di di statistica che si ripetono nel tempo noi sappiamo che un'alterline da 20 giorni negli ultimi dieci anni ha una durata di 18 giorni quindi vuol dire che il ciclo da 20 giorni dura 18 giorni direi che i dieci anni di storico e diviso cicli da 20 giorni facessimo il calcolo ci saranno centinaia di cicli da 20 giorni dentro quindi abbiamo una statistica la nostra che è decisamente ma decisamente valida quindi tornando a noi short si ma non adesso aspettiamo un rimbalzo e rimbalzo per poi andare a cercare poi un ribasso intorno alla data del 2 di giugno e in per frangente poi cercheremo anche di capire eventuali aree di prezzo con questo direi che tutto ti do appuntamento la prossima analisi che sarà sul MIB ciao ciao